O Paz, ovvero Michele Senese, comandava Roma anche dal carcere e anche dalla clinica psichiatrica. Trollo costante del territorio realizzato attraverso i vari sottogruppi che indipendevano comunque tutti da lui, inondando Roma di droga ma anche di sangue e gambizzazioni. A lui si rivolgevano altri sodali che avevano costituito dei gruppi che erano dotati di una certa autonomia, anche se il Michele Senese interveniva per quelle che erano le scelte strategiche. La procura della capitale ha spiccato 28 ordini di arresto, 24 per persone a piede libero, che ruotano intorno al suo clan e che negli anni ne hanno fatto da vicere sui vari territori della città. Infatti la capitale era divisa in tre zone criminali, Tiburtina, Prenestina, Tuscolano, Cinecittà e Torbella, Monaca. Il 63enne originario di Afragola è considerato il capo indiscusso della criminalità romana, anche se da tempo è in carcere in regime di alta sicurezza. Tra le varie accuse, l'omicidio di Giuseppe Carlino avvenuto nel 2001, arrestati anche il padre 84enne e il figlio. Non omettevano l'utilizzo delle armi, tant'è che nel corso dell'intera operazione ne sono state sequestrate nove pistole in totale. La droga che invece è stata sequestrata nel corso di tutta l'attività di indagine ammonta a quasi 90 kg.